Ciao a tutti, sono Ilaria e frequento il quarto anno di estetica qui a Loyal. Oggi vi volevo presentare il nostro corso e portarvi in questo mondo bellissimo. Qui sono nel laboratorio di estetica dove passerete molte ore. Imparerete tutti i trattamenti estetici, imparerete le cose basi, principali, fondamentali dell'estetica. Imparerete anche ad usare tutti i vari strumenti, dal tronchesino, alla lima. Qui trovate vari lettini dove imparerete a fare massaggi, pedicure, manicure. Questa è la parte di sterilizzazione dove verranno puliti, igienizzati, sterilizzati tutti i prodotti. Qui ci sono i vari step e i vari macchinari da utilizzare. Del secondo anno andrete in stage e lo stage si fa in seconda, in terza e in quarta. In terza e in quarta avete anche la possibilità di fare più mesi di stage, ovvero quattro mesi di stage consecutivi. E potete anche andare fuori dalla vostra regione. Lo stage è un'esperienza bellissima perché vi permette di provare tante cose nuove, tante tecniche nuove. Vi permette di aprire la vostra mente su altri orizzonti. Adesso vi porterò nel laboratorio di trucco, ovvero quello di make-up. Questo è il laboratorio di trucco. Come possiamo vedere c'è l'insegnante che sta truccando una ragazza. Qui impareremo tutte le tecniche del trucco e pian piano andremo sempre più sullo specifico e sul complicato. Fino ad arrivare a trucchi più elaborati. Come possiamo vedere c'è la professoressa che sta truccando la ragazza. La professoressa, mentre esegue il trucco, anche spiega alle ragazze e fa vedere tutti i procedimenti che bisogna fare. Le ragazze in questo momento potranno fare tutte le domande che vogliono e la prof chiarirà loro tutti i dubbi. Se volete più informazioni sul nostro percorso potete visitare il nostro sito internet www.lofattoio.com oppure venirci a trovare qui a Scuola Loyal di Pordenone.